Good morning Milano! Buongiorno a tutti e a tutti! Come state? Martedì 5 marzo 7.05 in diretta come sempre dagli studi di Milano News in quel di San Siro qui con una nuova puntata per il nostro morning show, la nostra sveglia, la vostra sveglia, la sveglia dei milanesi, coloro che stanno in questa città sapete che ormai i milanesi sono chiunque sia qui e come dico sempre sta però alle regole di questa città che non sono regole, non sto dicendo a casa mia, a casa tua, no no no, proprio alle regole che ti impone questa città per riuscire a sopravvivere in questa città e non è facile, spesso sono dei ricatti, spesso sono situazioni complicate ma i milanesi imparano poi a riuscire a galleggiare in questa città e anzi poi ad affezionarci sia anche a essere ben contenti di stare qui, insomma questa città la amiamo 5 marzo è un giorno importante per la musica italiana perché oggi è il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Lucio Battisti ebbene sì, ieri era Lucio Dalla, oggi Lucio Battisti, diciamo che è una due giorni importante in 48 ore riusciamo a parlare forse dei più grandi cantautori, autori, cantanti, interpreti della musica italiana e quindi non potevamo quindi che iniziare questa giornata, questo 5 marzo, ovviamente ascoltando il grandissimo Lucio Battisti una delle sue canzoni, vabbè, famose, non forse una delle più famosissime, una delle più conosciutissime ma insomma comunque per sempre Lucio Battisti, le cantiamo tutte sempre insieme, Lucio Battisti Lucio Battisti con Confusione, oggi nel giorno del 5 marzo, il giorno del suo compleanno pensate che Confusione era il lato B di un singolo, un disco famosissimo, una canzone famosissima che era Il mio canto libero, ma pensate che in realtà non doveva essere il lato B cioè non doveva essere il lato B di quella canzone, ma quando hanno scelto che singolo far uscire per il disco che poi sarebbe uscito da lì a poco, volevano far uscire Io vorrei, non vorrei ma se vuoi, sul lato A, e Confusione sul lato B, poi invece si scelse Il mio canto libero sul lato A che diventò ovviamente quel brano famosissimo che conosciamo ma la cosa interessante era che Confusione dovrà comunque essere il lato B di quel 45 giri quindi l'abbiamo voluto ascoltare anche per quello, poi comunque è un testo abbastanza particolare legato anche forse all'oro nero, al petrolio, insomma quegli anni dell'austerity all'epoca e gli anni dell'inquinamento oggi, insomma come non cambia poi sempre, si parla di combustibili fossili adesso si dice così, ma il tema era sempre quello, come sempre, come le più grandi canzoni di Lucio Battisti il testo è scritto da Mogol, la musica di Battisti pensate che Lucio Battisti nella sua carriera, e post, ma anche, ha pubblicato tantissimi album anche dopo sono stati pubblicati tantissimi album anche dopo si arriva a contare all'incirca 111 album pubblicati in Italia tra la sua carriera e gli album postomi 94 raccolte pensate che tutto quello che è stato poi la pubblicazione in studio in realtà, escludendo gli album per il mercato estero sono stati registrati 20 album insomma, una carriera di tutto rispetto e che infatti, insomma, ancora qua a raccontare oggi 5 marzo 2024 musica che, insomma, era grande e rimarrà sempre grande musica che però, ricordiamo che Battisti, appunto, a Milano produceva la sua grande musica poi andò a vivere in Brianze, insomma sempre Milano c'era in mezzo in questa produzione musicale importante per la discografia italiana e da Corriere della Sera Milano mi collego a una piccola notizia che ho letto questa mattina dove c'è un'intervista a Frankie I Energy grande padre, diciamo uno dei padri dell'hip hop del rap italiano che andrà in scena fra qualche giorno al Sistina Sistina Shapitò che è questo teatro che è stato un teatro tenda dove ci sarà la versione rimodernata ringiovanita, diciamo così del Jesus Christ Jesus Christ Superstar il musical in cui lui interpreta Erode e in questa intervista non parla solo dello spettacolo che appunto andrà in scena dal 7 di marzo ma dice anche attenzione perché Milano è la culla del nuovo rap ma è cara ed esclude chi non lavora qui noi avevamo il paraocchi se avevi uno sponsor eri scandaloso pensate che roba noi non potevamo pensare adesso invece ovviamente senza sponsor non vai da nessuna parte ma la cosa interessante è che anche lui che non è per niente milanese riconosce che appunto la culla del nuovo rap è la città di Milano sicuramente adesso io devo ancora vedere alla fine di nuova scena non so bene come va a finire questa serie su Netflix che parla appunto della nuova scena hip hop trap e rap italiana per adesso Milano è rimasta un po' nell'ombra nel senso che è molto Napoli c'è giustamente anche con tante storie da raccontare c'è molta Roma con delle storie interessanti da raccontare Milano c'è ma viene raccontata poco però vi dico ho visto solo le prime quattro puntate non ho ancora idea di cosa succeda nel proseguo non è facilissimo da guardare per chi è la mia età e per chi soprattutto magari ascoltava Frankie High Energy e i grandi della musica rap di quella che insomma c'era una volta diciamo così interessante invece su Cattelan se guardate un'intervista a Fabio Fibra in cui viene messa una sorta di timeline della storia del rap italiano divisa per anni e per ere Achille Lauro sei la vi 7 e 20 minuti martedì 5 marzo 331 7 8 5 3 5 5 5 il nostro numero di whatsapp lo ripeto lentamente 331 7 8 5 3 5 5 5 ve lo siete scritti ve lo siete salvati se non ve lo siete scritti ve lo siete salvati comunque sulla nostra app lo trovate c'è il pulsantino potete schiacciare ma anche sul nostro sito internet insomma trovate tutto in modo per poterci contattare qui in diretta come ha fatto Alberto che appunto c'è scritto un whatsapp un buongiorno allo zio Fabio e a tutti quelli che sono in ascolto di Cristal Radio Milano e good morning Milano ebbene sì diamo ancora noi rinnoviamo la prima mezz'ora di trasmissione sapete va in giro va via con i buongiorno ma perché è l'ora in cui vi svegliate quindi ci sta abbiamo visto che abbiamo dei grandissimi ricercatori che lavorano per noi abbiamo fatto con la IEA IEI IEI ok sì abbiamo fatto delle ricerche dei scenari delle prospettive abbiamo capito che nella prima mezz'ora vi svegliate e allora continuiamo a ripetervi buongiorno va bene poi dopo cominciamo con le cose serie no no anzi 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 le notizie le leggiamo fin da subito perché invece notizia che leggiamo su Repubblica Milano le palme milanesi lasciano Piazza Duomo ebbene sì da ieri sono iniziati i lavori di smantellamento non c'è altra parola sì qui dicono che come è che ne hanno chiamati vengono spostati smantellamento comunque dell'aiuola che fu di Starbucks adesso iniziano i lavori per svelare la nuova aiuola invece dell'oasi di Zegna che verrà svelata durante il salone del mobile quindi mi immagino che verrà tutto fatto con le paratie chiuso spero di no perché veramente non sono un po' più di stare questo effetto wow completamente inutile sull'80% delle cose che vediamo questo roba dell'hype veramente ha stancato tantissimo ve lo dico comunque le povere palme cosa è successo le povere palme gli alberi saranno spostati appunto per fare posto al nuovo allestimento del verde pubblico davanti alla cattedrale leggo appunto così testualmente da Repubblica Milano questi alberi spostati saranno però ripiantati il comune dice presto aiuole anche in corso Venezia e via Borsieri pensa te che roba sappiamo che lo dice anche l'assessora al verde l'anagrandi tutte le palme con l'eccezione delle due ammalate mi piace che bisogna anche fare queste robe qui perché la gente va fuori di testa saranno trasferite in via Zubiani nella sede dell'area verde del comune ok quindi se le portano in casa al comune non sapevano dove metterle le mettono lì io dico con tutti i parchetti che ci sono in periferia che hanno già l'irrigazione quindi non mi dite a dire no ma la manutenzione ce li hanno quelle robe lì ok due palme le potevi mettere una a Grattosoglio una a Barona una a Ponte Lambro no mettiamole nella sede dell'assessorato alve no della sede dell'area verde del comune che non so neanche cosa succede si sarà la vecchia parchi e giardini veniva chiamata così nascerà invece in Piazza del Duomo man mano che le aivole saranno liberate dalle palme proseguiranno i lavori di allestimento il nuovo progetto dell'Oasi Zegna ok in tempo per l'inaugurazione del Salone del Mobile che sarà ad aprile la aivola di Piazza Duomo avrà quindi un nuovo look con piante ed arbusti ovviamente mi hanno detto no le palme non andavano bene perché no le palme cosa c'entrano con Milano e quindi cosa mettiamo mettiamo piante ed arbusti delle Alpi biellesi ma perché non riusciamo a fare una cosa che abbia a che fare con Milano adesso non dico non dico di mettere quattro geranei o qualcosa del genere ma una cosa che abbia un senso non riusciamo a darle comunque vedremo questi piante ed arbusti delle Alpi biellesi e soprattutto voglio capire quanto rimarranno lì perché non so quanti anni adesso devono tenerseli lì comunque poi leggiamo sempre la Repubblica Milano c'è un progetto per una parte di Corso Venezia dove spiega sempre l'assessora Grandi si trova a depavimentare l'asfalto a favore del verde e questa è la bella notizia nel senso è costosa come roba però finalmente spendendo i soldi per una cosa di intelligente cioè spacchiamo un po' di cemento facciamo in modo che si vada giù in terra l'unico dubbio che ho è lì sotto c'è la metropolitana quindi quanto può andare sotto non più di tanto ma soprattutto ci sono ancora zone in quella parte di città dove se io scavo sotto c'ho la terra e basta no ma dovete avrò sotto quale stesse cosa quindi verranno fatte le aiguole fondamentalmente non è che ne ha fatto un giardino la differenza dal giardino a aiguole è quella che le aiguole sotto non ha cioè è delimitata e sotto non c'è la terra cioè c'è terra c'è un po' di centimetri di terra e poi sotto c'è il cemento questo perché perché poi quando si allagano le vie è quello il problema è quando c'è il cemento sotto è quando c'è l'asfalto sotto non è quando c'è la terra che ciuccia dentro capito comunque vabbè sa di fatto che vedremo anche queste Rosso Venezia poi parterà anche i lavori per piazza Quasimodo dove saranno rimosse le auto a favore di una nuova area verde ok finalmente un giardino questo ci piace siamo contenti per fortuna così un po' di verde ritorno in questa città città che dice sulla carta di essere green spesso e volentieri la critichiamo perché non è così green per fortuna qualche pianta in più insomma non fa male poi se riuscissimo anche a salvare queste palme usarle bene magari il verde uscire dalla cerchia dei navigli perché il problema è questo non è neanche di dire ah tutto in centro dentro 90-91 no 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 tutto incentrissimo cioè viene sempre fatto tutto in super centro fra poi avremo le foreste all'interno della cerchia dei navigli e fuori distese 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 di cemento spettacolare Manini 7 e 32 minuti Good Morning Milano Crystal Radio ricordiamo sempre Crystal Radio sulla Dub Plus la sentite in tutta la Lombardia sull'FM la sentite a Milano e con la app di Android e iOS la sentite in tutto il mondo ci tenevo a dirvi questo comunque andiamo avanti con le notizie Repubblica Milano allora leggiamo ancora plastica nei panini in una mensa scolastica Milano Ristorazione dice è sospeso il fornitore e abbiamo allertato in ass io continuo a ripetere questo allora è come la storia del bullone che si era trovato nel coso il problema non è la plastica nel panino che trovi una volta è se con la plastica è finita nel panino c'è un problema sulla catena di montaggio o di imballaggio o di creazione cioè andate a monte a capire cosa è successo prima cioè inutile nella macchina mancherà un pezzo cioè il concetto è quello mancherà un pezzo per cui o entra della plastica dentro oppure come l'altra volta là c'era finito il bullone c'era una macchina da qualche parte che aveva il bullone che si perdevano ok ovviamente ricordiamo che un episodio un episodio analogo si è verificato la scorsa settimana sempre una mensa scolastica milanese e la lega al sindaco sarà dice servono misure forti per la sicurezza dei bambini anche meno ragazzi però adesso va bene tutto ripeto poi se fosse stato mio figlio mi sarei incazzato come una bestia anch'io però comunque è questo il concetto dobbiamo sempre relativizzare nel senso non è mio figlio non è il figlio è successo un caso due casi tre casi su migliaia di pasti che vengono dati ovviamente fa bene Milano Ristorazione a dire cambia il fornitore cerco lì però insomma anche meno misure forti per la sicurezza dei bambini e fatevi un panino cioè non mi viene da dire nel senso come dire comunque dice appunto che Milano Ristorazione nell'articolo spiega che hanno dovuto cambiare il il fornitore perché in via precauzionale la somministrazione del prodotto pane con farina biologica di grano tenero presso le utenze in cui non era ancora stato consumato è stato bloccato quindi prima hanno bloccato la diffusione del panino quindi i bambini non hanno maniato il pane e poi hanno cambiato il fornitore ovviamente misura resa necessaria a fronte del ritrovamento di un corpo estraneo nella giornata di ieri in una scuola primaria cioè di oggi dicevano ieri in una scuola primaria non è la prima volta ricordiamo anche settimana scorsa è successo ed è successo anche qualche mese fa con un bullone mi fa un po' sorridere per non dire altro appunto che subito comunque l'opposizione è saltata sui banchi era urlare ma urlare non lo so comunque dire che in fondo la Lega già nei giorni scorsi aveva duramente criticato l'amministrazione comunale sul tema e quindi tornata l'attacco leggo sempre la Repubblica Milano siamo sconcertati e preoccupati per gli errori gravi che Milano Ristorazione sta continuando a commettere mettendo a rischio la salute dei nostri bimbi e bimbe ma meno male che ci sono loro per fortuna dichiarano così in una nota Alessandro Verri capogruppo di consiglio comunale ed Emanuela Bossi consigliera nel municipio 4 anche oggi abbiamo ricevuto segnalazioni del fatto che Milano Ristorazione abbia ritirato i panini e le focacce per la merenda a causa ancora di frammenti di plastica dato che non è la prima volta che Milano Ristorazione commette questi gravi errori proseguono sempre gli esponenti della Lega ci aspettiamo delle misure forti da parte dell'amministrazione mamma mia comunque dal canto suo appunto la società comunale che gestisce le messe scolastiche fa sapere che a partire da oggi la fornitura del pane e dei prodotti da forno sarà sospesa e verrà in seguito sostituita con prodotti alternativi di un altro fornitore poi andiamo a vedere se il fornitore usa una stessa identica azienda ditta in cui facevano il panino con l'altro secondo me la plastica ce la ritroviamo ancora quindi andiamo alla fonte a capire cosa è successo non subito a fare polemica e orgogliosa canta lei e orgogliosamente occupano invece gli studenti a Milano eh sì Repubblica Milano sempre ma anche Corriere della Sera adesso vi dico un po' quello che sta succedendo nelle scuole milanesi perché è occupato il liceo classico Parini ma succede di tutto e di più perché un prof agita l'ombrello contro gli studenti e davanti al picchetto sembrerebbe che insomma momenti di tafferuglio tra un ombrello e gli studenti così viene letto ovviamente enfatizzato anche fin troppo dai giornali il preside dice è stato un gesto di nervosismo il picchetto è una violenza vabbè non lo so comunque gli istituti nell'istituto sono potuti entrare solo il preside e gli amministrativi non i docenti il dirigente dice sono deluso ma resterò a scuola per garantire la sicurezza dei ragazzi quindi la mobilitazione studentesca si allarga anche al liceo Parini che è la sesta scuola superiore occupata dall'inizio dell'anno sappiamo che sono delle occupazioni lampo in un certo senso avvengono velocemente pochi giorni e poi dopo si rida tutto indietro ai docenti e ai presidi ma è una staffetta è un'occupazione fatta in maniera di staffetta pian pianino si passa da una all'altra e ogni scuola occupa qualche giorno la protesta va avanti si continua a toccare il tasto da una parte ovviamente della guerra di Gaza del cessato il fuoco la chiesa del fuoco ma soprattutto anche delle questioni molto interne al mondo della scuola o meglio ancora molto interne alla generazione degli studenti che in questo momento occupano le scuole disagio mentale disagio psichico ansia prestazioni la scuola delle prestazioni la scuola del merito insomma tutti questi temi qui vengono tirati fuori dagli studenti che hanno trovato questa nuova forma di occupazione appunto a staffetta quindi dove ogni due o tre giorni cambia il liceo o l'istituto che vede i propri studenti in agitazione e poi in occupazione al liceo Parini è successo questo fattaccio appunto anche lo legge lo titola così anche il Corriere della Sera perché dice appunto liceo Parini occupato prof tira un'ombrellata agli studenti e poi fumogeni striscioni e momenti di tensione allora questa ombrellata in realtà sembra che sia da solo brandito un ombrello in alto dicendo allora lasciatemi entrare il concetto era un po' così un ombrello chi è che ce l'aveva in Harry Potter c'erano gli ombrelli magici Mary Poppins anche volendo però no solo brandito così ma in realtà ovviamente c'erano i cellulari qualcuno ha fatto il video e si è caricata e montata sulla storia come era completamente inutile fare sesto episodio quello del liceo Parini occupato in poco più di un mese se invece calcoliamo anche il tentativo fallito al Boccioni saliamo a 7 così il Corriere della Sera ricolla anche questa cosa però insomma teniamo d'occhio perché è davvero davvero interessante ecco i picchetti erano un po' di anni che non si vedevano devo dire la verità sta tornando questa idea il picchetto ovviamente il picchetto porta tensione porta al rischio di una violenza o comunque di un contatto fisico che insomma sarebbe meglio evitare in questi casi però mi sento ancora di stare dalla parte dei studenti per il momento poi vedremo se nei prossimi giorni fanno ancora così bene come stanno facendo oppure si degenera ma spero che non sia così perché davvero le istanze che portano avanti questi studenti soprattutto quelle dicevo interne al mondo non solo della scuola ma al mondo della generazione che rappresentano è molto importante è molto interessante e anzi dovremmo guardarlo con degli occhi un po' più aperti e con la mente soprattutto aperta e questo era Lizzo con special 7.45 minuti i rumori che sentite di sottofondo sono quelli del nostro ospite collegato con noi diamo il benvenuto a Michele Albiani consigliere comunale buongiorno consigliere buongiorno buongiorno a tutte e a tutti con questa voce sexy vi do anche il buongiorno insieme a Fabio è una cosa che avevo molto in comune la mattina qui noi voi ospiti questa cosa per fortuna infatti è per quello che facciamo il botto di ascolti mica peraltro perché abbiamo delle grandissime voci sexy perché abbiamo qui in collegamento anzi allora la notizia è che è ancora la voce caro consigliere Albiani perché ieri nel consiglio ha dovuto urlare un pochino il consigliere Albiani come mai cosa è successo ma ho dovuto perché insomma in un momento di interventi liberi un mio collega il capogruppo scusate il segretario provinciale della Lega Savoia Piscina diciamo ex presidente del municipio 2 quindi uno che è l'accettabile spesa esatto esatto parlando di un cancello che è riuscito a far mettere in via mosso dove noi invece abbiamo investito milioni per riqualificare ci è tenuto a dire che lì ci sarebbero state scusate mi scuso per con gli ascoltatori con le ascoltatrici diciamo se ci sono persone transgender in ascolto per il linguaggio se ne è uscito con c'erano transessuali che sputavano sangue infetto sulle forze dell'ordine così così dal niente ah non so esatto così dal niente e chiaramente io sono sono saltato letteralmente sulla sedia del mio banco e ho iniziato a gridare perché chiaramente era una è stata una cosa veramente disgustosa da parte di Piscina che per cercare di farsi notare ha utilizzato delle immagini discriminatorie nei confronti di deumanizzanti ecco deumanizzanti questa è la parola nei confronti delle persone transgender e anche delle persone che vivono con HIV perché poi il senso è quello l'utilizzo di queste leggende metropolitane anni 90 in cui bisogna spaventare utilizzare appunto prendere persone soggettività già marginalizzate e renderle il mostro cattivo di cui aver paura perché perché c'è questo discorso della della paura infatti consigliere non entriamo nel merito medico clinico della cosa che già lascerebbe comunque molto desiderare credo ma la cosa interessante è che per definire una zona di degrado si utilizzano delle persone delle categorie di persone che vengono già spesso invece marginalizzate e portate ai margini della nostra società questo come se fosse un plus ecco c'è anche quella cosa lì e la dico così faccio capire quanto schifo c'è in quel quartiere perché il concetto è quello cioè viene utilizzato per dire che il quartiere è allo sbando non capisco è questo sì esatto allora assolutamente però Fabio ci tengo siccome io fra le cose mi occupo di faccio attivismo per le questioni LGBT ma sulle questioni di salute sessuale la questione di sputare sanguinfetto non esiste non è un mezzo di trasmissione di infezione da questo punto di vista perché qua lo intendeva dire di HIV non è un mezzo quindi questo è importante farlo sapere alle persone perché non si sa mai abbastanza esatto il fatto di adesso quando ne abbiamo parlato io e te al telefono la questione è che qua si passa di questi tempi dalla questione di banalità del male proprio alla stupidità del male perché lui non se ne è nemmeno reso conto di quello che ha detto cioè tant'è che nel video si può andare a vedere sul canale youtube del comune lui proprio non ha capito il suo sguardo non è che avesse malizia cattiveria e anche quando io per tre minuti buoni ho gridato che la doveva finire perché continuava a ripetere questa cosa con la sardone che gli consigliava accanto gli faceva tipo da burattinaio lui non se ne rendeva conto e questa è la cosa molto pericolosa molto molto ogni più di quelle parole lì il fatto che giusto così per come suonavano nella sua testa e poi dalla sua bocca evidentemente pensava fosse la cosa giusta da dire ecco su questo io chiederò manderò una lettera alla presidente Buscemi per chiedere che Piscina si sposi ufficialmente in aula per le parole che ha detto non avete avuto modo di parlarvi dopo dopo il consiglio lui si è avvicinato lui si è avvicinato e dice guarda è meglio che mi stai lontano ah perché ero sì 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 no perché magari l'ha capita allora magari è riuscito nel miracolo e l'ha fatta capire magari Piscina sembra un ragazzo intelligente in fondo nel senso non credo ripeto effettivamente quello che dice lei è interessante cioè il fatto del farlo senza neanche la malizia di dire adesso dico una cosa brutta apposta per cercare di ma così suonava bene la detta nel senso quindi un problema più culturale come dicevi poco fa nel senso che giustamente va però ribadito ma no una volta siccome non è nuovo diciamo che forse Piscina cercavo di difendere in qualche maniera ma è indifendibile allora niente provavo a salvare un po' Piscina non ce la piace allora se si farà si farà ammenda e si scuserà potrà potremo insomma dire vabbè cerchiamo di perdonarlo la vedo molto difficile perché non è nuovo nel nell'utilizzare dei linguaggi o immagini discriminatorie e sostanzialmente fregandosene cioè anche quando gli si fa notare che fa la figura diciamo non esattamente non tanto è poco elegante ma quello che dicevamo di quello proprio non esattamente molto sveglio va bene e poi spiace poi spiace no lo so ma mi spiace perché poi insomma siamo colleghi eccetera insomma se lì qualcuno c'è la qualcuno se lì qualcuno ha pensato che fosse sveglio per stare seduto lì quindi qualcuno crede il contrario su Piscina quindi insomma beh ma poi io spero possiate ritrovarvi anzi vi dico se volete venire qui e parlarne insieme io mi metto in mezzo faccio un attimino da mediatore se volete prima che proprio vi pigliate la manata in faccia che non vorrei nel senso non vorrei che finisse male quindi se volete io vi do il mio tavolo per poterne discutere tutti insieme no Michele grazie davvero per quello che hai fatto grazie anche per averci spiegato il perché della tua reazione che sicuramente è stata sopra le righe ma che era importante per te ribadire e far capire il perché anche della tua reazione giusto cioè quello fondamentalmente che dobbiamo riuscire a far comprendere a chi ci ascolta da casa anche figurati grazie a te per avermi fatto raccontare e appunto quello che dico a chi ci ascolta mi raccomando quando c'è qualcuno che dice una cosa sbagliata ditelo soprattutto se ci sono altre persone che possono ascoltare e rimanerci male e avere una sofferenza perché questo è la prima cosa da fare magari non dovete gridare come me perché ieri è stato magari un po' fuori da le righe però assolutamente se voi potete dare voce a persone che non ce l'hanno fatelo mi raccomando insomma questo è importante lo diciamo sempre in tantissimi casi se c'è qualcosa che secondo voi non va bene con i modi giusto come giustamente al biennese lo ripetiva ditelo fatelo sentire quando si fa la battutina sessualizzante sulle colleghe quando si fa la battutina sui colleghi omosessuali quando si dice la cosa fuori luogo sulle persone transgender insomma non si passa per bacchettoni forse anzi mi viene da dire finalmente si passa per intelligenti a volte no? ma qualcuno dovrà pur farlo ecco benissimo grazie grazie mille consigliere Albiani andiamo avanti con la musica sempre qui in diretta su Good Morning Milano Crystal Radio I Will Survive Gloria Gaynor eh no non siamo su una spiaggia caraibica o in Jamaica ma in Rolling Stone pensate you don't have to mean it questo era la Crystal History delle 8 di oggi martedì 5 marzo adesso sono le 8 e 10 e continuiamo con la nostra Good Morning Milano vi ricordo 331 7853555 per contattarci per raccontarci un po' quello che succede quello che va come va cosa fate dove siete che fate oggi di bello non so potete raccontarcelo prendo un attimo di tempo per parlare di un'altra radio ma perché è così cioè oggi ci ragionavano dicevo sapete che spesso non si possono dire certe cose se tu dici ma in realtà tutti quanti sapete che in questo momento c'è Fiorello da un'altra parte che sta facendo la nostra stessa roba se volete cambiate canale e andate da lui ma non lo fate perché siete affezionati al nostro programma quindi perché non parlare anche di quello che succede nelle altre radio la notizia e lo spunto mi arriva da Corriere della Sera Milano perché Lorenza Ghidini è la prima donna a dirigere Radio Popolare lei dice la mia nomina il segno dei tempi oggi c'è più consapevolezza ebbene sì la cooperativa dei lavoratori l'ha nominata nella serata di ieri lei è in radio dal 1998 già caporedrettante direttrice Ghidini è voce di punta dell'informazione del mattino con la trasmissione Prisma che molto probabilmente appunto è in onda anche in questi momenti però non cambiate canale state qui con noi però insomma mi sembrava giusto fare gli auguri alla nuova direttrice di Radio Popolare una radio storica milanese una radio fondamentale per Milano come anche storica Crystal Radio quindi siamo ben contenti insomma che nel nostro comparto nel mondo della radiofonia ci siano anche nuovi arrivi come appunto nuove arrivi o meglio delle conferme quasi in un certo senso appunto che è dal 98 che è in radio la Lorenza Ghidini e che adesso appunto è la nuova direttrice di Radio Popolare quindi auguri alla nuova direttrice e buon lavoro chissà che appunto non sia anche un nuovo corso per la radiofonia milanese sarebbe bello pensarci insomma la radiofonia milanese quanto è importante pensate quante radio a Milano sono nate e quante sono nate radio importanti e noi siamo qui ancora a testimoniarlo 1984 nasceva Crystal Radio 2024 siamo ancora qui fate voi i conti e capite che oggi quest'anno è un anno importante ma ne parleremo nei prossimi mesi quando arriveremo al nostro compleanno e allora poi li lasceremo parlare anche gli storici fondatori di questa radio che ancora oggi pensate ancora oggi molti di quelli sono ancora qui con noi a raccontarla a farla a farla andare avanti a far andare la carretta come in questi casi così che poi nuovi arrivi come me come tanti altri qui a Crystal Radio possano permettersi di raccontare le proprie cose di fare questo bellissimo mestiere che è parlare alla radio e darvi il buongiorno tutte le mattine grazie ai fondatori e al nocciolo duro al nucleo che creò questa radio appunto 40 anni fa ma come dicevo nei prossimi mesi ne sapremo meglio 1984 2024 40 anni di Crystal Radio e appunto ripeto nei prossimi mesi andremo a capire ancora meglio di cosa si tratta e avremo un po' di cose da raccontarvi ma invece siamo qui oggi nella nostra casa anzi a casa mia e ce lo dice anche lui Gali con casa mia Gali con casa mia ma questa è anche la casa della nostra prossima ospite perché adesso andiamo a contare una Milano che conta con una bionda che conta buongiorno Viola ciao Fabio buongiorno a tutti buongiorno allora tu sei quella che conta che cosa hai contato questa settimana allora oggi questa settimana sono andata a contare il numero di lampadine del lampadario del teatro la scala di Milano una alla volta una alla volta e praticamente sono 383 lampadine allora tanto non so un poche se hai detto così il numero uno si fa a migliaia no 380 lampadine una attaccata all'altra fanno un bel lampadario assolutamente no no è proprio grande quel lampadario tra l'altro ho letto che la cupola appiccicata al soffitto che tiene insieme il lampadario e il soffitto è talmente grande che può tenere dentro una persona in piedi è gigantesca sai che io l'ho conosciuta si è ancora lì dentro no non so scherzare davvero mio zio quando era giovane studente fece lavorò per la scala e lavorò all'interno del lampadario della scala non è vero si Ottavio il mio zio dentro la cupola appiccicata si e cosa faceva dentro dentro ci sono delle robe elettriche ah faceva l'elettricista no ho poi lavorato per la telecom però si nel senso studiava e quindi si no 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 è grandissimo devo dire che non è tanto alto ops l'ho detto ah vabbè allora non è così grande il mio zio no no però no no ci stava e praticamente per pulirlo perché poi mi sono chiesta come lo dovranno pulire stacca una lampadina e pulisce esatto non le staccano una alla volta lo calano lentamente in mezzo al teatro una volta all'anno d'estate e ci sono poi delle persone a post professioniste che puliscono puliscono una una lampadina non c'è un Dyson no giù lui e poi sì sì una volta all'anno una volta all'anno tu quante volte all'anno pulisci la lampadina di casa tua sinceramente eh mai io credo di non aver mai pulito in casa mia quindi no poi ovviamente il lampad c'è da dire che il lampadario della scala non è quello originale ah perché quello originale è stato distrutto durante un bombardamento della seconda guerra mondiale ok e quindi l'hanno rifatto ricostruito ok dei vetrai di Murano ok anche se non è tutto in vetro perché alcune parti sono comunque di plastica per renderlo più leggero ah mi immagino sì sì e un'altra curiosità che ho letto molto interessante del teatro della scala in generale è che è il primo edificio pubblico che è stato illuminato dall'energia elettrica eh sì sì e tra l'altro contava ben 2450 lampadine però totale non solo il lampadario eh sì nel 1883 è stato illuminato per la prima volta in occasione mi pare della Gioconda della prima della scala sì 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 di quell'anno grazie alla centrale elettrica che c'era in via Santa Re Seconda sai dov'è? dove c'era il cinema Odeon ah ok lì c'era una centrale elettrica sì sì e sai quando videro la luce cosa fecero? first reaction shock è perché è da lì che arriva è da lì lui raccontava quella storia lì davvero? sì 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 ma non lo so hai visto che twist ma va è tutto collegato ma Lorenzi stava raccontando quella storia lì first reaction shock quando videro la luce arrivare per la prima volta alla scala mamma me non lo sapevo sai io non lo sapevo davvero tu sei quella che conta io so quello che legge che sa quello che sa altro basta? no non sapevo niente diciamo che abbiamo cercato anche un altro dato ma l'abbiamo trovato ah sì ho cercato per giorni e giorni di capire quanto pagasse il teatro la scala di bollette di bollette dell'elettricità ma non lo trovo non lo trovo magari cercherò meglio ma bisogna andare a cercare nei bilanci ma non ci voglio vedere se no non ne uscivo conta ma conta cose fisiche non i numeri se non la fine no 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 infatti una roba alla Rain Man beautiful mind qualcosa del genere ci vuole per riuscire a capire un bilancio della scala bene quindi 383 lampadine 383 lampadine più dei giorni di un anno penso va bene tantissime potremmo accennere una potremmo accennere una una al giorno così però sarebbe divertente una sorta di calendario dell'avvento di un anno di un anno va bene va bene Viola grazie allora per aver contato anche questa settimana e allora ho voluto positivamente mettere una canzone con il tuo nome nel titolo sto parlando di Gammon con Rose e Viola qui alle 8 e 22 minuti su Crystal Radio Good Morning Milano grazie mille Viola puoi tornare più in regia a fare il tuo lavoro adesso dai cosa vai a contare non lo so vedremo vedremo Gammon Rose e Viola 8 e 25 minuti adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa e poi torniamo ancora qui su Good Morning Milano Crystal Radio FM 96.2 Dub Plus app di iOS Android e crystalradio.it vi ricordo anche che c'è il sito internet goodmorning.milano.it potete riascoltare tutto anche la bionda che conta sì la nostra Viola la SED con auto distruttivo alle 8 e 33 minuti qui su Crystal Radio eravamo un attimo distratti di regia perché stiamo guardando i bitcoin eh sì abbiamo scoperto che sia io che Viola abbiamo un ingente capitale fatto di 50 euro forse neanche investito in bitcoin ma abbiamo triplicato i nostri guadagni negli ultimi mesi perché si sapete in questo momento i bitcoin stanno salendo verticinosamente e quindi tutti a correre a comprare bitcoin e quindi i prezzi salgono e quindi chi ha investito in bitcoin qualche anno fa in questo momento potrebbe guadagnarci tanto su comprare o vendere non so cosa dirvi quindi sto zitto che forse è meglio nel senso che non so bene non so cosa dirvi come era Toro non so quelle cose lì non le so le lascio ai film sull'alta finanza che abbiamo visto negli anni 80 in televisione ma altro non so so invece che leggo da Repubblica Milano le piogge dei giorni scorsi hanno lasciato davvero il segno o meglio le buche 555 quelle segnalate nell'ultima settimana dato aggiornato a un paio di giorni fa quindi insomma ce ne saranno ancora di più c'è di mentiri dell'asfalto corsia di tram allagata in lancetti proteste ovunque ecco la mappa dell'emergenza questo è un articolo che potete trovare su Repubblica Milano sono state appunto 455 le segnalazioni aperte da giovedì scorso sono a cui poi abbiamo aggiunto un centinaio invece trasmesse dalla scusate polizia locale da gennaio fino a metà febbraio si contano 1300 interventi sull'asfalto per riparare le crepe ovviamente le piogge di questi ultimi giorni hanno invece intensificato i problemi si dice che d'altronde non ha mai piovuto così tanta con così tanta insistenza negli ultimi anni effettivamente è stata una pioggia continua non sono state bombe d'acqua qualcosa di poco ma continua insistente continua insistente continua insistente e questo ha provocato parecchi danni alla città tante tante le strade sia in centro che in periferia crivellate proprio completamente con delle pozze pazzesche interessante anche invece quello che ha fatto Simone Lunghi con gli Angeli del Bello qualche giorno fa perché in piazza Sant'Ambrogia proprio di fianco alla Cattolica c'era allagato c'era tutto un pezzo di piazza completamente allagata con un tombino che non scaricava hanno aperto il tombino hanno incominciato a tirar fuori quello che c'era dentro che toppava il tombino bene si è scoperto ma in realtà già lo sapevano avevano questo sentore era solo da andare a controllare che fosse davvero così che era intasato di coriandoli delle sparacoriandoli delle lauree in Cattolica ebbene sì attenzione quando è bello devo dirlo lo sparacoriandoli è bellissimo è una roba un'espressione di esplosione di gioia che è stupenda però ha dei tanti tanti danni collaterali tra cui quello di andare a far infilare questi piccoli coriandoli ovunque e oggi uno oggi due oggi tre e poi spesso non sono di carta ma sono plastificati oggi uno oggi due oggi tre vanno a toppare i tombini e quindi piazza piazza Sant'Androgio era praticamente completamente sott'acqua per via di coriandoli dentro questi questi tombini consiglio che do spassionato a tanti molti e so che anzi alcune ragazze qui seguiranno lo stesso consiglio proprio Viola ha detto che farà così quando si lavorerà le bolle di sapone ci sono le sparabolle con il serbatoietto con il tubo delle pistole con due batterie vanno si sparano le bolle è un effetto bellissimo lo consiglio lo consiglio io l'ho fatto personalmente anche per il mio matrimonio niente riso ma tante bolle di sapone che volavano davanti a Palazzo Reale quindi insomma è un consiglio che do può essere una modalità interessante che può così dare un po' di colore e soprattutto non dare effetti collaterali indesiderati extra liscio bianca luce nera insieme a Davide Toffolo dei tre allegri ragazzi morti questa musica quasi un po' da sembrava quasi arrivato il circo in città un po' così ecco il circo in città ce l'abbiamo già da tempo e stiamo parlando della questione San Siro non se ne può più San Siro nuovo vertice sul restyling dello stadio Meazza ebbene sì è successo di nuovo ancora un altro un altro vertice e Sala dice ora mettiamo Inter e Milan nelle condizioni di decidere non se ne può più questo dico io invece in settimana l'incontro tra sindaco i club e il colosso delle costruzioni we build storia infinita bisogna uscirne e poi appello della nipote di Mattei alla società rossonera no al nuovo stadio a San Donato a Mattei dell'Enio che non riuscivo a capire ogni tanto scrivo delle cose che non hanno minimamente senso vabbè comunque non si capisce perché vabbè fa niente dopo anni di stallo il sindaco Beppe Sala premi sull'acceleratore fissa per il fine settimana un vertice a 4 con Milan Inter we build e ovviamente il comune il colosso delle costruzioni we build che si è reso disponibile a realizzare entro 3 mesi uno studio di fattibilità pro bono ricordiamo questa cosa senza soldi non si capisce perché vabbè per la ristrutturazione di San Siro a margine di tutto questo sembrerebbe che in realtà le società siano abbastanza propense a questa scelta anche se ufficialmente dicono di no perché hanno i conti che non sono molto più a posto cioè non tornano più bene i conti e quindi sembrerebbe che costruire uno stadio completamente da zero non sia un'opzione fattibile e allora si torna sulla ristrutturazione sarebbe a questo punto quello che dovrebbe esserci appunto nel fine settimana sarebbe il primo incontro formale tra tutti gli attori di questa lunghissima telenovela già settimana scorsa il direttore generale Cristian Malagone aveva incontrato i tecnici di we build e sarà l'occasione per Milan e Inter di presentare i loro desiderata camò comunque mi sembra che avevamo già desiderati abbastanza e dichiarati tutti questi desiderata questo stiamo leggendo dal Corriere della Sera Milano che vi invito appunto ad andare a leggere l'articolo uscito pochi minuti fa sulla versione online a partire dice i desiderati ad esempio quali sono ma li sappiamo già ad esempio prima di tutto è la possibilità di poter giocare con il pubblico anche durante i lavori per continuare così ad avere i posti desiderati e anche destinati a VIP e altre funzioni che ora mancano allora la domanda è Italia 90 cioè sono passati più di 30 anni era già così funzionava hanno costruito lo stadio mentre si giocava perché adesso nel 2024 che siamo tutti bravi e capaci a fare praticamente qualsiasi cosa abbiamo fatto cioè ragazzi Bruca Liffa il più alto grattacielo al mondo sono 800 metri di grattacielo fra un po' un chilometro di grattacielo quasi non riusciamo a costruire e a ristrutturare uno stadio lasciandoci dentro quattro quattro robette giù appoggiate lì una cazzuola un martello intanto giocate e poi a fine partita riattacchiamo a fare i lavori cioè non so io davvero questa qui è una telenovela infinita sono contento che anche il sindaco Sala dice storia infinita infinita bisogna uscirne era ora che anche il sindaco capisse che davvero non se ne può più non se ne può più cerchiamo di ritrovare una soluzione cerchiamo di arrivare a capire qualcosa stadio di San Siro rimane lì lo mettiamo a posto lo facciamo diventare il più bello stadio possibile in Europa e vedrete che sarà lì ancora altri 100 anni e verranno a giocarci chiunque e vorrà chiunque fare manifestazioni all'interno di questo stadio questo è il destino dello stadio San Siro allo stadio Neazza in San Siro Imagine Decor Imagine Dragons Symphony 8 e 47 minuti siamo quasi in conclusione ma ancora notizia prima di chiudere di carattere sportivo perché eh sì leggo da Repubblica Milano parliamo di ciclismo chi ci segue da tempo sa il mio grande amore per il Giro d'Italia e sa quanto sia polemico sul fatto che da troppo tempo non passa dalla città di Milano o meglio non si conclude a Milano come secondo me dovrebbe essere ogni Giro d'Italia comunque non è solo Milano dire no al Giro ebbene sì leggiamo da Repubblica Milano ciclismo la Svizzera dice no al Giro d'Italia e la corsa deve cambiare il tracciato arrivando quindi al leggendario Mortirolo beh alla fine ci va bene devo dire le autorità del canton Ticino impediscono il passaggio sul passo della Forcola per il traguardo del 15 maggio quindi il cambio taglia fuori la prica e diceva ci stavamo già preparando alla festa così dicono quelli di la prica e mi spiace ditelo agli svizzeri chissà perché su Repubblica c'è tutto l'articolo lo potete leggere e capire perché la Svizzera non vuole che che se passi di lì e sì perché che il Giro d'Italia sconfini in nazioni non è in nazioni confinanti non è certo una novità così dice Repubblica Milano lo è però che una nazione si rifiuti di ospitarlo ebbene dopo l'annuncio ufficiale del percorso questo è successo perché la quindicesima tappa della Corsa in Rosa la Malerba del Garda Livigno in programma per il 15 maggio doveva passare dalla Svizzera ma ha dovuto che venne tracciato era previsto uno sconfinamento in Svizzera per arrivare al traguardo del passo della Forcola ma le autorità svizze non hanno a Svizzera non hanno accolto la proposta mantenere in sicurezza il passo comporterebbe un onere spropositato e quindi ha spiegato così il Dipartimento delle Infrastrutture Energie e Mobilità del Cantone dei Grigioni bene e quindi se manco gli Svizzeri c'erano i soldi per fare una roba del genere chi ce li ha è un bel problema e niente quindi niente cambio del percorso non si va più alla prica non si gira di là si fa invece il Mortirolo e quindi si dovrà rivedere quest'ultima tappa scusate questa tappa del 15 maggio del Giro d'Italia passo del Mortirolo dove si sono compiute leggendarie imprese ricordiamo una su tutte la fuga in solitaria di Marco Pantani del 1994 su Pantani non saprei veramente cosa dire se non che ci manca tantissimo ci manca quel tipo anche di corridore di ciclismo che ha fatto veramente la storia del ciclismo non solo italiano ma mondiale devo dire che la notizia è abbastanza particolare perché davvero se neanche la Svizzera riesce ad avere i soldi per mettere in sicurezza un tratto di strada per far passare il giro d'Italia è un grosso grosso problema devo dire che da uno che segue spesso le tappe va anche in loco a seguirli effettivamente siamo in tanti ad andare sul tracciato siamo in tanti a seguire la Corsa Rosa e non è per niente facile gestire la sicurezza di una situazione così caotica come quella poi soprattutto sulle salite quando insomma tutti quanti si va lì per cercare di inneggiare ai propri campioni andiamo avanti con la musica adesso è 8 e 55 minuti di oggi martedì 5 marzo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano come sempre qui in diretta su Crystal Radio 5 marzo che ricordiamo essere il compleanno di Lucio Battisti che abbiamo appunto festeggiato questa mattina con un po' di musica ma che verrà ricordato anche qui dopo di noi in Senti Questa grazie ad Ambrogio Curti con il suo speciale appunto su Lucio Battisti di oggi martedì 5 marzo Senti Questa appunto dopo di noi il 9.05 Ambrogio Curti la grande musica nazionale non con ovviamente oggi uno speciale come vi dicevo su Lucio Battisti noi ovviamente si torna domani invece come sempre dalle 7 alle 9 per raccontarvi un po' tutta la città oggi poi dopo di noi come dicevo Ambrogio Curti ma durante tutta settimana appunto si era sempre Senti Questa e voi siete pronti domani a tornare qui come sempre alle 7 su Crystal Radio mi raccomando non perdetevi niente grazie ancora a tutti quanti per averci seguito grazie ancora a Viola per i suoi conteggi di oggi la ritroveremo sicuramente durante la settimana ancora qui con noi a Good Morning Milano qui su Crystal Radio come tutte le mattine buona giornata a tutti e ciao a tutti i suoi conteggi